Ci sarebbe un'apertura del nuovo centro-destra alla candidatura di Mimmo Di Paola, stando alle indiscrezioni trapelate da un incontro riservato tra le due delegazioni che abbiamo intercettato all'Hotel Palace. Credo che ci rincontreremo nei prossimi giorni e lì decideremo quale potrebbe essere anche un'alternativa al metodo che hanno utilizzato loro. Incontrerà Di Paola? Per la verità non ho problemi ad incontrarlo e mi ha anche chiamato nei giorni scorsi per farmi gli auguri e per iniziare a discutere su questa possibilità. Lontano dai microfoni si parla di un'assemblea popolare, un'assemblea dei comitati o più probabilmente di un sondaggio per stabilire chi sia il candidato più gradito e tentare di superare il muro delle primarie che divide gli ex pidiellini. Di Paola, dal suo quartier generale, conferma l'apertura. Incontrerà Massimo Cassano. Se sarà il caso, sì. Io incontro il nuovo centrodestra naturalmente nelle sue figure, nei suoi organi istituzionali. Quindi se il responsabile di questa trattativa sarà il senatore Cassano, io personalmente ci conosciamo da tanto tempo, non ho nessun motivo per non incontrarlo. Anzi, può darsi che un incontro ravvicinato possa sciogliere tanta brina che magari si è creata a distanza. Ma sui lavori in corso del livello locale del partito pesa come un macigno la posizione nazionale del nuovo centrodestra, ribadita da Renato Schifani. Le primarie sono le regole della nuova democrazia, della nuova politica. Non vediamo per quel motivo altri partiti del centrodestra si debbano arroccare su pregiudiziali che non porterebbero la coalizione a vincere.